Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Oggi abbiamo un ospite speciale qui in studio, che è proprio Adriano Celentano. Buon pomeriggio a tutti! Ciao! Perché siamo ancora nello spazio riservato a come imparare degli accordi semplici da suonare a pianoforte e quindi oggi faremo una canzone che ha scritto Adriano, che è... Pregherò! Pregherò! Dopo la sigla! Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi molto semplici che sono Do maggiore Quindi sappiamo che dove ci sono i due tasti neri e a sinistra abbiamo il Do, la nota Do Do, Mi e Sol formano l'accordo di Do maggiore Poi subito dopo ci sarà il La minore Quindi andando indietro Do, Si, La La, Do, Mi La minore E poi il Fa maggiore Quindi andando sempre indietro Do, Si, La, Sol Fa Fa maggiore Fa, La, Do Ed infine Sol maggiore, Sol, Si, Re E la canzone fa così Pregherò! Per te! Già è la notte del cuore E se tu lo vorrai Crederai! Bene, come avete visto I primi due accordi hanno quattro battute mentre il Fa e il Sol si dividono in 2 più 2 Poi la canzone continua così nella strofa fino ad arrivare alla parte in cui E quindi poi si ripete uguale per tutte le parti che compongono questa canzone Bene, come avete visto era molto semplice da suonare questa canzone Io voglio ringraziare Daniele Nuzzi Bye Celentano Grazie a te! Seguitelo sia su Facebook sia sui social perché lui poi fa tante serate Se avete bisogno di un Celentano al vostro compleanno chiamate Daniele e lui verrà sicuramente ad allietare le vostre serate Grazie a te Mario Grazie Daniele Io vi lascio in descrizione comunque il testo con gli accordi e tutto quello che di solito Lascio in descrizione e date un'occhiata per imparare bene gli accordi al pianoforte Ciao! 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 Grazie a tutti.